Ciao ragazze, video un po' insolito, mi trovo al mare, oggi è domenica, è una bella giornata e volevo un po' farvi fare il giro di alcuni posti della Puglia. Allora oggi mi trovo a San Pietro in Bevagna che si trova sul litorale Ionico, sul litorale Tarantino, scendendo quindi verso Porto Cesareo. Sono venuta al mare e vi voglio far vedere un po' questo posto carino, il mare è stupendo, purtroppo a livello di ricezione turistica non abbiamo tantissimo, ma il posto è bello. La nostra pecca è proprio questa, quella di avere dei posti bellissimi, dei paesaggi bellissimi, ma comunque strutture non adeguate per l'arrivo dei turisti. Quindi vi porto oggi con me e vi farò vedere un po' questa zona. A dopo! Allora, la cosa bella di questo posto è che insieme al mare c'è appunto il fiume di acqua dolce, quindi acqua freschissima, tocca sana per le nostre gambe. Allora, la cosa bella di questo posto è che è un po' questa zona. Allora, la cosa bella di questo posto è un po' questa zona. Allora, la cosa bella di questo posto è un po' questa zona. Allora, la cosa bella di questo posto è un po' questa zona. questo posto è un po' questa zona. questo posto è un po' questa zona. Paisaggi incontaminati. Paisaggi incontaminati. gestivi, devo dire. E qui si arriva alla spiaggia. Ecco qui. Ci andiamo a fare un bel bagno. bel bagno fresco. A dopo! Nel centro del paese, appunto tra il paese e la spiaggia troviamo questa vasta pineta aperta al pubblico. dove trovare un po' questa zona. Dove trovare un po' di fresco dopo la giornata al mare sotto il sole, quindi qui le persone fanno i loro picnic. molto carini. Entriamo. E qui ci sono i sentieri per arrivare al mare. e qui ci sono i nostri spiaggia.